La King's Social Shop ha rilasciato il 6 marzo 2023 un nuovo articolo su Raman Community per quanto riguarda un nuovo modello per il Batutom 2023 The Seraphon che verrà rilasciato a estate 2023. E a riguardo sono interessato, anche se un po' sorpreso, perché non mi aspettavo che anche Ido Starseer, che è praticamente un modello non molto vecchio, quantomeno per aspetto altro, vedesse un rifacimento. In questo caso invece c'è e sinceramente non mi dispiace, voglio ricordare che per quanto riguarda i vari annunci stati fatti vi lascio in descrizione i vari link ai vlog perché appunto sono stati presentati diversi modelli e secondo me merita la pena andagli a vedere. Ed ecco che se ne vediamo effettivamente possiamo vedere quello che è il modello per quanto riguarda la proiezione, ovvero quello che ve l'ha portato. Sinceramente forse quello vecchio era più associato ai Celestant, quindi alla versione appunto diciamo eterea. Questo è forse più associato a quello che è la versione terrena perché se andiamo a vedere effettivamente il modello è pienamente dotato di viti, di liane o altro e quindi fa pensare che effettivamente sia più legato alla parte quale esce, quindi alla parte terrena se vogliamo. E non mi dispiace affatto questa proposizione perché permette di vedere molto, secondo me il modello è molto dettagliato e promette molto bene perché se andiamo a vedere effettivamente un po' più in dettaglio possiamo vedere che le varie caratteristiche alto del modello non sono affatto male. In particolare però se andiamo a vedere la parte inferiore dove c'è il sistema, il meccanismo praticamente di levitazione devo ammettere che i supporti a riguardo sono molto molto pochi, quindi sono molto curioso di vedere effettivamente come sarà il potere posizionare alto perché mi sa di un modello molto delicato da gestire in quanto le superfici di contatto sono molto molto poche. Però sono anche molto curioso perché effettivamente potrebbe valere la pena studiarlo un po' però diciamo che non sono così convinto. La parte della testa invece mi fa assomigliare molto a quello che ho visto per quanto riguarda l'ultima uscita che era, che era stata annunciata per quanto riguarda gli scinchi di Brable per l'elmo, però forse c'è un richiamo, forse no. In ogni caso c'è un qualcosa di interessante. Possiamo vedere che comunque la quantità di dettagli è immensa, è veramente ricchissima la parte dello standard o altro quindi ci sarà veramente tanto da gestire a riguardo. E possiamo vedere che è stata presentata anche la parte per quanto riguarda, una parte per quanto riguarda le regole per questo modello che è Sky the Stars. Quindi una volta per battaglia, una sola volta nella propria hero phase, si può dire che questo modello farà praticamente l'invocazione alle stelle, la chiamo così. Diciamo che cercherà di scrutinare le stelle. Se lo si fa, ecco che si tira un numero di dadi equivalente al numero del corrente turno di battaglia. In questo caso forse è molto simile a quello precedente, anche se non così limitato. Quello precedente è secondo me un po' più ampio. In ogni caso per ciascun duo più che si può ottenere su questi dadi tirati, quindi l'equivalente al numero di turno di battaglia, quindi più si va avanti col turno di battaglia più sarà facile che vengano ottenuti questo risultato. Ecco che si prende una unità amica, Saraphon, sul campo di battaglia. Quell'unità ecco che guadagnerà un World G5 più fino alla fine della successiva hero phase. È da notare che però questo vuol dire che se si ha il doppio turno durerà poco, altrimenti durerà turno di battaglia. Quindi dovete fare attenzione a come volete gestire il tutto perché appunto potrebbe essere problematico. Sinceramente sono interessato a queste cose e vorrei sapere anche la vostra opinione al riguardo. Perché c'è veramente stato tanto al riguardo, sono ancora curioso di vedere eventualmente i Sauronite, Cavaliari e Sauri. In ogni caso, fatemi sapere la vostra opinione, ma diciamo che più si va avanti meglio sono questi annunci per quanto riguarda il Sauron. Perché i Maitran avevano bisogno di un rinnovo della gamma, anche se forse il personaggio è un po' meno, ma ci sta. Ad ogni modo. Da Dynamode per questo video è tutto. Vi invito a mettere mi piace, a iscrivervi al canale, a suonare la campanella e a lasciare un commento se siete interessati ad avere specifiche e ulteriori video riguardo a questo tipo di video. Oppure se siete interessati a semplicemente assinararmi qualche domanda o qualche video a cui potete essere interessati. Da Dynamode è tutto, alla prossima!